Mi trovo in quest'aula, come vedete, molto gremita di persone, gente giovane che vuole aggiornarsi attraverso un corso che si chiama Master Estetica, organizzato dalla Confartigianato di Arezzo. È il tempo dei contenuti, quindi questi giovani che vogliono affrontare una professione, un'attività così importante, anche per creare serenità ed estetica, occorre che abbiano una conoscenza approfondita. Sono qua a parlare della nutrizione, del ruolo vitale che c'è tra l'alimentazione e il nostro benessere, perché la medicina estetica oppure le alterazioni estetiche non sono altro che espressione di una patologia che parte dall'interno, conoscere per cambiare. E ringrazio la Confartigianato per aver organizzato insieme al professor Per Antonio Macci questo interessante Master Estetica. Grazie a tutti.